Gentili telespettatori, buona giornata. C'è l'effetto buco nero. Di che cosa stiamo parlando? Piazza Pulita e il sondaggio Index sulla politica. Il governo Draghi? Beh, Mario Draghi fa bene nel sondaggio, ha un buon riscontro nell'elettorato. A come Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Quindi i beneficiari di questo governo di Unità Nazionale sembrerebbero Draghi, Salvini e Berlusconi. Il sondaggio è di Piazza Pulita sulla 7. Vediamo il nuovo esecutivo nato sulle ceneri del Conte 2, con una maggioranza allargata con tutti, con Lega e Forza Italia. La fiducia in Draghi è al 63,9%, 64%, quindi con gli elettori per il momento piena luna di miele, insomma. Ma quando si fa la stessa domanda sulla squadra di governo, la fiducia in Draghi è al 64%, ma è la fiducia nella squadra di governo. C'è un crollo di 16 punti percentuali. La fiducia nella squadra di governo è al 47,9%. Quindi forse il vero problema non sono i tecnici alla Draghi, ma i partiti politici e i loro ministri. Quindi gli italiani hanno fiducia nel tecnico Draghi, ma quando si parla dei politici, Speranza al Ministero della Salute, Di Maio, alla Lamorgese, insomma, quando si parla di politici, la gente è disillusa e vede la realtà dei fatti, vede appunto una politica di bassissimo livello. La scelta di andare al governo con il PD ha fatto bene alla Lega, che risale al 24,5% e cala il PD al 19,3%. Cala anche il Movimento 5 Stelle al 14,6%, mentre intanto Forza Italia sale al 7%, incrementa di uno 0,2%. Nello stesso sondaggio si vede che Giorgia Meloni perde lo 0,3%, quindi gli unici a restare fuori calano anche loro, dello 0,3%. Comunque 12 punti in più rispetto alle elezioni politiche del 2018. La beffa è Matteo Renzi, l'uomo che ha fatto cadere Conte, che ha fatto con un suo 2%, ha fatto tutto quello che abbiamo visto, che va in giro a fare interviste dove gli chiedono in giro per il mondo, ma come ha fatto lei con il 2% a far cadere un governo? Lui che si sente comunque fiero e orgoglioso di questo, il suo partito addirittura cala dello 0,1% ed è intorno al 3%. Altri sondaggi lo vedono intorno all'1,9%. Quindi diciamo che l'artefice, l'uomo che più di ogni altro ha brigato per portare Draghi a Palazzo Chigi, al posto di Giuseppe Conte, vede la sua creatura Italia Viva praticamente nella palude. Ecco, diciamo che questo che abbiamo visto, insomma, e l'ha visto anche Renzi, lo sta portando a pensare di voler sciogliere, chiudere Italia Viva, ormai è un partitello che non serve a niente, e fonderlo in una sorta di centro, dove lui adesso vuole raccattare i voti di Calenda, della Bonino, per mettersi anche qui, cercare di mettersi a capo di una formazione di centro. Sicuramente Calenda gli impedirà questo, Calenda comunque ha un partito tra il 4 e il 4,5%, che è di tutto rispetto comunque come percentuale. Ricordiamoci anche che Fratelli d'Italia, due anni e mezzo fa, aveva quella percentuale. Quindi una percentuale di partenza discreta, di Calenda, e arriva Renzi col suo 2-3%, che vuole diventare anche a Stavò, visto che non gli è riuscito di diventare il capo del centro-sinistra, adesso vuole diventare il capo del centro, e insomma, lascia un po' il tempo che trova. Quindi vediamo che gli italiani comunque non sono contenti di questa politica, diciamo così, e lo si vede proprio da questo sondaggio. C'è da dire che altri sondaggi invece danno Fratelli d'Italia in salita abbastanza consistente, assieme alla Lega e a Forza Italia. Quindi quello che si vede in comune tra questi sondaggi comunque è che i partiti di centro-destra si stanno rafforzando tutti e tre, sia a chi è fuori, sia a chi è dentro, anche se in questo sondaggio Fratelli d'Italia sarebbe in calo. Comunque un centro-destra sempre più forte, in un altro sondaggio si evince che in qualsiasi diciamo ipotesi che ci sia la scissione dei 5 Stelle, che ci sia Conte con un suo partito, che ci sia Conte a capo dei 5 Stelle, che ci sia Conte a capo del centro-sinistra, qualsiasi ipotesi vede il centro-destra assolutamente irraggiungibile per tutti gli altri, anche se si dovessero mettere tutti insieme fino all'ultimo politico, il centro-destra sarebbe sempre e comunque in vantaggio. Quindi il Paese, stando a quello che vediamo ormai da due anni e mezzo, se non di più, è sostanzialmente un Paese indirizzato verso il centro-destra, un Paese comunque che è orientato alle politiche di centro-destra, è un Paese che comunque è una politica, è una sinistra che è attaccata al potere, che viene messa lì, in questo caso è stata messa lì dai grillini, piuttosto che andare alle elezioni e perdere il lavoro, hanno invitato il PD a governare. Volete governare con noi? Ecco, insomma, ho il PD che li invita, Mattarella che li conferma, insomma, il PD in un modo o nell'altro, quello che rappresenta il centro-sinistra, viene ancora messo al governo, messo al governo, anche se il Paese ormai non è più di centro-sinistra da moltissimi e da moltissimi anni. Però per i passati e i retroscena dell'Italia, purtroppo, la sinistra riesce sempre ad arrivare al governo, proprio perché è qualcosa di strutturale che abbiamo parlato tante volte, che arriva dal dopoguerra. Però le cose stanno piano piano cambiando. Il Paese ormai è di ideologia di centro-destra, non è assolutamente un Paese di centro-sinistra l'Italia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.